No alla mozzarella di bufala campana DOP congelata, possibilità prevista dalla modifica del disciplinare di produzione approvato a maggio dall'Assemblea dei Socii del Consorzio di Tutela che sta dividendo i produttori e le associazioni di categoria. Sul fronte dei favorevoli col diretti, su quello dei contrari Confagricoltura che ha promosso una campagna no frozen per raccogliere firme, per impedire che le proposte del Consorzio vengano applicate. Sul nuovo disciplinare infatti devono esprimersi le quattro regioni dell'area di produzione, la Campania, il Lazio, il Molise e la Puglia. La petizione è stata lanciata con una manifestazione pubblica sulla Statale 18 a Battipaglia, cuore della produzione per sensibilizzare i turisti diretti alle località balneari con degustazioni gratuite. La mozzarella di bufala è nata come prodotto fresco e lo è sempre stato. Noi a Battipaglia siamo conosciuti in tutto il mondo per la mozzarella. Estendo la conoscenza perché è la Piana del Sielo, è la campagna patria della mozzarella, ma della mozzarella fresca, del prodotto tipico. Nel momento in cui si va a congelare e perde quella tipicità non ha più un valore una DOP. Cioè quindi mettere una DOP su un prodotto che non è più tipico non ha nessun senso. Oggi questa manifestazione lo dimostra, lo dimostrano i cittadini campani che non vogliono una mozzarella congelata. Quindi io ringrazio tutti per essere intervenuti e l'importante è il nostro slogan, il nostro motto è No Frozen, si mozzarella. È una battaglia per la tutela non solo del prodotto mozzarella di bufala campana, ma anche del nostro territorio che sulla bufala vive anche. L'assurdo è quello di applicare la DOP su un prodotto congelato, a parte l'utilizzo. Sì, noi non ci opponiamo alla mozzarella di bufala congelata, anzi se c'è un'eccedenza nel periodo invernale di latte, può benissimo essere utilizzato per fare una mozzarella anche mista, una mozzarella congelata. Infatti è previsto che gli stabilimenti possano avere due linee di produzione, una per la DOP e una per il prodotto non DOP. Il problema è che non vogliamo che venga messo questo marchio che è sinonimo di qualità su un prodotto che sicuramente non sarà fresco, perché è appunto proprio congelato e quindi non avrà le stesse caratteristiche del prodotto fresco. Un no deciso, quindi quello ribadito a battipaglia, per una delle novità contenute nel nuovo disciplinare, che darebbe la possibilità di commercializzare mozzarella congelate a canali oreca, cioè hotel, ristoranti e catering, introducendo però anche altre novità giudicate positivamente, come il doppio bollino di qualità per la mozzarella artigianale prodotta a mano, l'utilizzo del marchio DOP per i maxi formati ed il via libera alla mozzarella senza lattosio. Aspetti positivi e negativi, quindi, che per il comitato no frozen necessitano di un approfondimento, partendo dalla cancellazione dell'ipotesi del congelamento. Noi siamo il popolo della mozzarella, siamo nel territorio della mozzarella, quindi dobbiamo essere forti. Non esiste la mozzarella su gelata, congelata, la si può fare, ma non con il marchio DOP, assolutamente no.